non ti assicuro che ce ne sono anche qui peccato che non c'è l'hugger ma l'hugger con l'hugger c'è il bowie ma non c'è il bowie non mi piace più questa cassa ma se ne sono ancora un bel coi c'è una custom in questo bowie tu quanti ne hai io una decina probabilmente nessuno cioè perchè continuano a sponare la cassa è qui da me ok ok occhio che non ne ho ok io ne ho due arrivo cioè che sono gli ultimi nice te li tengo io dove sono? stanno arrivando da dietro eh carini c'è una coppietta qui hai visto? che coppietta c'è una carini qui cosa? ho detto riuscirà a trovare la wonder la seconda wonder secondo me la seconda non la provi secondo me il secondo secondo me ah no ah no non lo so a chiotto vadoo sprizza luce da ogni poro questa candela qua questa palla vediamo dove va la cassa seguo il fascio follow the fascio the cassa no no blue fascio of the cassa di luce specifica di luce di... come si dice luce? light light è qui in spiaggia è in spiaggia è in spiaggia? spiaggia quick o spiaggia? ah ok ah vabbè qua va venire guarda in alto ah no ma dove è di nuovo nel punto inciofecato no scusate non puoi andare da no è bloccato ma che cazzo? vedi è bloccato e quindi? e quindi ah riesci? si si no ho fatto il giro ah ok ok pensavo che fosse bloccata non capivo è solo inciofecata ho detto niente ammazzo? anzi se ammazzi tu da qui ti fai... eh fatti ammazza da qui bravo infatti però vai via eh appena puoi eh sta scomparendo l'arma dai Wunder niente vabbè ci fermiamo questi ti osservavo vabbè non è diciamo beh resta in zona che a fine round si si guarda mi sa che oh saldi bella 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 eh però mi piacerebbero le scimmiette qua beh le scimmiette ci sono si non quel tipo diciamo che non sono lanciabili no mi stava mi stava chiudendo una scimmia oh si oh scimmia no oh scimmia si li fa ok no niente mi voglia di gelato come la mettiamo? uuuuuh ok 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 posto vado come come voi che avete visto ho fatto tipo un piccolo escape dove ne scape i miei a fuori hai preso un bonus no invece c'è una scimmia qua è un altro ma i doppi punti vanno bene certo a te che servono punti si fa cassa ma quest'arma è un mitaglione potentissima super night c'era un bonus qua ma non so dove è finito perché se l'è fottuta la scimmia uuuuuh 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 e vedi mi lagga perchè mi fa i picchi da cpu lo vedo qua dal lag del rantotten mi ho fatto il picco al 90% ma sta registrando da ubs o da streamlabs? da ubs ubs no no streamlabs ti ho detto ancora devo prenderci un po' la mano ok ok va lasciamo ne uno che ha 14.000 se non la trovo io ne ho due vai 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 se non proprio veramente se non la trovo vada vada non ci incischi io sono qui a girarmeli bravo guarda come girano guarda come girano stai attento eh che non ti girano contro poi guarda come fanno quando ho finito non si rialzeranno li butto fuori uno per uno fratticelo li butto fuori va bene non è più per nessuno vediamo ancora vedo il tuo scam box che figata cambiare arma cioè switchone costantemente arma mentre mira uno zombie ti fa la mira assistita tipo si 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 ti fa la cosa bellissimo oddio mi gira la testa aspetta migrata la cassa migrata di nuovo mamma mia si è cambiata tre volte aiutiamola a casa loro a casa sua alle casse loro alle casse loro alle casse loro esatto secondo me compare qua la spiaggia scommettiamo perché è una bitch una bitch e infatti ci ho preso bitches bitches cazza 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 e che cazza e che bitches bello il suo cecchino ragazzi come mettere e cecchina che fate nei privi cecchina gli zombie vai tu prendi tutto prendi tutto prendi tutto pronti 10 10 volte le armi con sti punti che c'ho speso pronti pronti ingiustamente preso esatto cazza e vedete se vado a terra si prendi i perk vuoi provare come vedete sono curioso di sapere se andiamo a terra se perdiamo i perk vuoi provare vabbè prima di terminare adesso non vorrei guarda chiedo chiedo per un amico cugino 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 10 g e mica di nuovo iniziamo o no vabbè dai finisco i puntats me ne lascio due su tre faccio giusto una cassa così e io per risparmiare tempo hai visto che sennò c'è visto che devi farne solo una ah vai uccidi uccidi andiamo avanti vai let's go uno per uno ti giuro ti butto fuori a me non ce n'è più per nessuno tante qua la faccia al volo yes davvero andiamo te l'avevo detto che la dovevo fare la dovevo fare la dovevo fare che è culo eh si si cheat un panzer eh occhio panzerotti raga e anche quelli che bruciano sta venendo da te mi ha schifato mi ha visto che no te no eh ma mi sa che ora ritorna perchè mi sto allontanando a volte ritorno ecco come fa allora adesso si ecco è qua io ce l'ho uno attento attento no mortacci tua eh perchè ti gabbra eh ti gabbra eh ti gabbra eh io son morto così io sono uscito pelo pelo eh ero rosso ma sei no io voglio fare il colpo di babycan no calma c'è il napalm no non funziona col panzer lì babycan no immagini il baby panzer che cazzo cazzo c'era tipo il mio sogno sembra tipo il mio muscolo il mio sogno ma che cazzo di sogno hai baby panzer ok cioè ti immagini si si tutto molto bello però da qui a classificarlo come sogno c'era se ma raga ora si fa erpuntazzi puoi provare la babycan col napalm col napalm già era su shanonuma eh si su shangri-la che funzionava quindi teoricamente anche qua non volevo il baby panzer no maledetta t'ho colpito due volte scimmietta non ti ha preso la wonder why questo napalm è fatto dello stesso madirei di cui sono fatti i sogni non muore i sogni eh non le stelle sì no i sogni i sogni i saldi oh saldi sei contento? eh ma tanto lì se trovi la terza provo sì la terza e muori mamma mia quanto parli ok è morto scimmietta ah teniamone uno story round questa mappa è un costante come? minchia draggambiani e scimmietti è un costante allora io sono tentato anzi lo faccio fermati un secondo ad ascoltare la domanda si proprio hai visto? ah c'è il napalozzo aspetta che lo faccio piccolo no non si impiccolisce non si impiccolisce perchè proprio veramente sal 24 ore di passaghery v 2020 non si impiccolisce cheat voglio nei commenti questa citazione tra virgolette non si impiccolisce esatto raga non si impiccolisce non si impiccolisce poetico uh ragazzi 25esimo round raggiunto mi arrestano gli occhi blu che vogliamo fare? io mi potenzio l'arma fai tutto ciò che desideri poi si può altro esploso io sono qui il fracassatore ma vi ricordate? sto parlando di me no ti ricordi? il nome della baby gun potenziata posso saltarti sulla testa ti ricordi la cosa di panzer sopra la testa? l'easter egg della testa di panzer di chi è ma? su the rise and drag c'era il caschetto a forma di pinza di panzer pinza di panzer ho un vago ricordo di questa cosa l'avevo fatto con john non so perchè mi è comparso l'altro giorno il video in un page si si ogni tanto vorrei probabilmente anche a voi ragazzone vi sarà comparso il video perchè ogni tanto youtube lo gira si 4-5 anni fa all'algoritmo di youtube piace cambiare piace girare si anche va che alla bunder di bel e di shangrila is amazing dai io direi completiamo il 25 quanto siamo di siamo quasi arriviamo a due ore dai arriviamo a due ore quindi non lo so se rifiurato non lo so se la faccio non lo so se 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 non lo so lo so se si riusciti potere Lo spara tipo fuoco questa arma qua Fire, fire Ah, ho ancora i perk, sal, l'ho fatto per testare Eh, sì, sì, tutti così dicono L'urro lo ha testimoniato Ma io che non ho il quick, che è l'unico perk che potrebbe essere utile Vabbè, se muoio non fa niente No, vai via, non ti muoio Non credo che questo significa che ti ho avuto un'altra scuola No, tu ti perca ancora, Lollo Bravo Grazie Vediamo se si può potenziare due volte Ok, non si può Ho trovato un cecchino della cassa Ho fatto due casse in questa partita Questa è la seconda, ho trovato un cecchino Io ho fatto x al cubo casse Dove x è un numero compreso tra 100 e 200 Mila Ho trovato un numero compreso tra 100 e 200 Ho trovato un numero compreso tra 100 e 200